Le sue attività riusciva a fare normalmente, a cosa fanno? La situazione a Modena, come nel resto dell'Emilia-Romagna, è in peggioramento. Dov'è il problema? Allora, naturalmente si fanno delle ipotesi. Sicuramente focolai nelle scuole, perché la scorsa settimana in provincia di Modena ne avevamo più di 160. 160 focolai? Focolai, quindi un numero veramente elevatissimo. Ai tempi della prima pandemia arrivavamo nei picchi massimi a 70-80. Quindi questo ci fa capire proprio che il target di queste varianti è la popolazione giovane e infantile. Ma i giovani si contagiano di più, hanno sintomi tutto sommato, per fortuna, banali, però poi portano l'infezione in casa, a quelli che sono i genitori, i nonni, gli anziani, che continuano ad essere le persone suscettibili di casi gravi. E questo quindi non deve succedere. In questo momento stiamo riscontrando diversi giovani con delle saturazioni basse, delle febbre alte che prolungano per giorni, debolezza, e quindi una sintomatologia comunque magari non preoccupante ovviamente per la vita del paziente, però che sperimentano proprio la malattia e che ci danno un po' da pensare, perché comunque anche noi un attimo siamo spiazzati da questa evoluzione nei ragazzi più giovani. In questa settimana il numero di telefonate è consistente. Noi vediamo questa, come una fisa armonica, questo andamento fluttuante delle telefonate che varia. Quando c'è la zona gialla noi sappiamo che dopo un po', dopo una decina di giorni, dopo due settimane, le nostre telefonate saranno più numerose. Fa le punturine, è vero, di eparina lei da una settimana, giusto? Ok. Oggi sono più chiamate le stagioni? Sì. Tante di giorni? Abbastanza, nel senso che non proviamo a farle tutte, ma solo tante. Quasi il doppio dei soliti. Entriamo una alla volta a fare la visita, quindi una entra e l'altra da secondo operatore. Questo è un signore, un po' anziano, ha febbre da un po' di giorni, è positivo da una settimana, e ci ha contattato il curante perché la saturazione è scesa rispetto ai giorni precedenti. Eccomi. Adesso ci sono più casi di persone giovani, giovani con pochi fattori di rischio e questo è brutto, soprattutto, insomma, visitare persone in queste condizioni e soprattutto non vedere mai una fine. Com'è andata? Non benissimo. È da andare in questo posto. Non è molto bell'idea, lui, adesso mi confronto con la curante perché alla fine è sempre lei che prende poi la decisione finale. Molti hanno paura proprio del ricovero e di peggiorare, cioè associano il ricovero, l'ospedale, alla morte. E quindi spesso bisogna spiegare che non è così. Quando non c'erano le usca era veramente un accesso continuo, pronto scorso perché non c'era altra strada. Quanti hai tu? No, quelli no, sono piazza. No, quelli sono piazza. Quindi sono sei pochi. Le usca sono di supporto al medico di medicina generale nella gestione domiciliare dei pazienti, perché è ovvio che quanto più i pazienti possono essere gestiti al domicilio, tanto più gli ospedali rimangono liberi per i pazienti veramente gravi che necessitano di cure ospedaliere. Abbiamo cercato di creare dei percorsi per far comunicare il territorio all'ospedale e cercare di far sentire i pazienti non abbandonati e cercare di portarli in ospedale solo quando fosse necessario e al momento giusto, né troppo presto né troppo tardi. Se il territorio funziona bene, meno persone arrivano in ospedale e quindi rimangono liberi in ospedale i posti anche per le persone non covid, perché non dobbiamo dimenticarci che se tutti i posti, tutte le terapie intensive o le sale operatorie vengono dedicate solo ai pazienti covid, poi non c'è spazio per gli altri e questo sarebbe un problema.